L'emergenza continua, anzi si sta persino aggravando. Entrano in vigore le nuove norme del primo DPCM firmato da Mario Draghi. Già si parla di milioni di alunni che dai prossimi giorni non potranno più seguire le lezioni in presenza. Nelle regioni rosse la didattica a distanza riguarderà tutte le classi dell'infanzia fino all'ultimo anno della secondaria di secondo grado. La stessa regola varrà anche per tutte quelle aree in cui il numero dei contagi sarà superiore a 250 ogni 100.000 abitanti. E proprio nelle ultime ore il consulente del presidente della regione Lombardia per il piano vaccinale Guido Bertolaso ha sottolineato che con questi dati c'è il rischio che in poche settimane gran parte dell'Italia entri in zona rossa. Il fatto è che purtroppo la nuova variante inglese, come stanno sottolineando tutti gli esperti in questi giorni, è decisamente più aggressiva nei confronti dei soggetti più giovani. Per la verità comunque non tutti condividono le misure contenute nel DPCM Draghi, a partire dalla ex ministra Lucia Azzolina che parla addirittura di pietra tombale messa sulla scuola. Questo decreto, ha detto Azzolina, non farà altro che aumentare e incrementare i divari territoriali. Anche psicologi e pedagogisti mettono in guardia dai rischi della didattica a distanza. L'ex ispettore scolastico Raffaele Iosa, per anni responsabile dell'osservatorio sull'inclusione, parla in proposito di una pandemia pedagogica caratterizzata da troppe lezioni frontali online, troppe tabelline, troppi compiti a casa e poca relazione educativa e poca cura dell'altro. Danni che si aggiungono a quelli legati alla perdita della scuola in presenza, che, stando ai dati diffusi proprio negli ultimi giorni da Saved Children, ha colpito anche quest'anno la stragrande maggioranza degli studenti italiani, ma in modo diverso a livello territoriale. I dati diffusi sono allarmanti. Tra settembre 2020 e fine febbraio 2021 i bambini delle scuole dell'infanzia a Bari, per esempio, hanno potuto frequentare di persona 48 giorni sui 107 previsti, contro i loro coetanei di Milano che sono stati in aula in tutti i 112 giorni del calendario. Gli studenti delle scuole medie a Napoli sono andati a scuola 42 giorni su 97, mentre quelli di Roma sono stati in presenza per tutti i 108 giorni previsti. Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, i ragazzi e le ragazze di Reggio Calabria sono stati in aula per 35 giorni su 97 del loro calendario. I loro coetanei di Firenze sono andati a scuola 75 giorni su 106 ed è di queste ore l'annuncio che il 26 marzo il Comitato Priorità alla Scuola occuperà di nuovo le piazze di molte città italiane, proprio per protestare contro la chiusura delle scuole, mentre nella stessa data è previsto un sciopero del comparto proclamato dai Cobas che, insieme al Comitato, chiedono che le risorse del Recovery Fund vengano assegnate in misura significativa alla scuola pubblica. Su questo ovviamente continueremo a tenervi aggiornati perché è il tema di queste ore, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Seguiteci ma scriveteci anche, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.